Ora è ufficiale, il docente di lettere Alberto Tramontano in quota Lega e l'ingegnere Francesco Roberti indicato da Forza Italia sono i candidati sindaci del centro-destra per Campobasso e Termoli, nonostante i mal di pancia di Niro e dei cespugli, alla fine vengono imposte le direttive di Roma. A meno di un anno dalla sua elezione Donato Toma vede scendere il proprio consenso, lo studio realizzato da noto sondaggi per il Sole 24 Ore sul gradimento dei governatori di regione attesta la dodicesima posizione del presidente del Molise con un calo del 6,2%. Una bomba viaggiante, così la Guardia di Finanza di Isernia ha definito la Fiat Punto a GPL sequestrata mentre trasportava 200 litri di alcol di contrabbando. In caso di collisione l'esplosione avrebbe potuto provocare una strage, denunciato un sessantenne. Più sicurezza per i cittadini di Campobasso parte il monitoraggio in ogni angolo della città grazie all'installazione di 120 telecamere inaugurata la sala operativa del comando della Polizia Municipale. Dopo quattro mesi di lavori e 140 mila euro di investimento questa mattina è stato riconsegnato alla città di Isernia l'ex centro-anziane di Via Umbria, ospiterà sette classi della Giovanni XXIII. Infine lo sport, il calcio al Civitelle finisce 1-1 il derby tra Agnonese e Campobasso, Musetti, Inguaia e Granata, avanti con Sorgente, Passofalso dell'Isernia ad Avezzano, Futsal, lo Sporting Venafrosigo della Serie B, Judo, Centracchio, Triunfa, Teplice. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con le news di Teleregione, in apertura c'è la pagina delle elezioni amministrative, quella di oggi è stata una giornata campale per il centro-destra che alla fine è arrivato a una sintesi, sono state imposte le direttive che erano state siglate ad Arcore. E quindi i candidati sindaci per il centro-destra a Campobasso e Termoli saranno Alberto Tramontano e Francesco Roberti, tutto ciò nonostante i mal di pancia dei cespugli, dei cosiddetti civici e anche dell'assessore regionale Niro. Sentiamo il quadro della situazione nel servizio di Pierluigi Boragine. L'ingegnere Francesco Roberti a Termoli, espressione di Forza Italia, il professore Alberto Tramontano a Campobasso, espressione della Lega, partiti tradizionali compatti, pronti ad eseguire le indicazioni dei nazionali, le decisioni prese ad Arcore dai Big Salvini, Berlusconi e Meloni. Forza Italia, Leghe e Fratelli d'Italia, si legge in una nota ufficiale, si impegnano con proprie liste a sostenere i candidati sindaci e sono pronti ad incontrare le civiche che riterranno opportuno collegarsi. Dunque un clamoroso colpo di scena, quando la Lega e Mazzuto sembravano sull'orlo del precipizio quasi fuori gioco il colpo di coda. Una prova di forza che genererà polemiche e sicure spaccature, anche se in politica tutto può succedere, civiche e cespugli sul piede di guerra, ribadiscono il loro no ad imposizioni dall'alto senza ascoltare il territorio. Prima il programma, poi chi sarà l'espressione dell'uomo e della donna che farà sindesi dalle forze politiche e che meglio garantirà l'attuazione di quel programma. Senza questi presupposti io credo che sarà difficile pensare soltanto a un'operazione di nomination che non mi appassiona, ma certo è che senza una condivisione le imposizioni da fuori regione, soprattutto per coloro che non conoscono la regione se non nelle scorribande elettorali di una certa importanza, io credo che sarà molto difficile che potranno avere la mia partecipazione. Nel corso del pomeriggio era venuto fuori con prepotenza anche il nome dell'avvocato Aldo De Benedittis, appartenente ad una famiglia nobile campobassana, già assessore della giunta di Bartolomeo. non sarà un tecnico, ma un politico che conosce bene le insidie della macchina amministrativa, le parole di Donato Toma, identikit che combacia perfettamente con la figura di Aldo De Benedittis, ma anche con quella di Alberto Tramontano. Ed ora a termo, li vediamo il resto della situazione, perché oltre a Roberti, vi abbiamo dato l'ufficialità per il centrodestra, Di Gian Domenico è già in campo, a breve lo sarà anche Nick Di Michele per il Movimento 5 Stelle, resta il centrosinistra che pare virerà sulla riconferma dell'uscente Sbrocca, ma ancora non c'è chiarezza su questo. Sentiamo Giovanni Cannarsa. Ultime ore per definire le candidature in entrambe le coalizioni, gli unici al momento a non avere i problemi sembrano essere i 5 Stelle. Si punta nuovamente su Nick Di Michele, anche se non c'è ancora l'ufficialità. Con lui con un gruppo civico ci sarà anche Remo Di Gian Domenico, mentre a prendere ancora tempo sono le classiche coalizioni di centrodestra e centrosinistra. Mi sembra andare spedita su due nomi, il primo è quello del sindaco uscente Angelo Sbrocca, il secondo quello del suo vice Maria Chimisso. Il Partito Democratico rappresenterà da solo la coalizione, ci saranno sicuramente a supporto delle liste civiche, ma la sinistra ha già annunciato di voler andare da sola. Al momento l'asticella nel PD sembra propendere verso Angelo Sbrocca, anche se il diretto interessato per il momento non si sbilancia. Dobbiamo vedere se ci sarà o meno, se ci sarà io darò sempre come ho fatto finora il mio massimo impegno per poter far sì che Termoli venga ben amministrata. Sbrocca è però convinto di aver ben operato in favore della collettività termolese. Una cosa lo posso dire è che tutta l'amministrazione, non solo io come sindaco, abbiamo lavorato allacremente, i cittadini lo possono vedere, abbiamo fatto tante opere pubbliche, forse che da tantissimi anni non venivano fatti su ogni settore dei lavori pubblici e di questo ne siamo fermamente orgogliosi. A circa un anno dalla sua elezione il presidente del Molise Donato Toma vede scendere i propri consensi, questo secondo la ricerca realizzata dalla noto sondaggi per il Sole 24 Ore, la speciale classifica sul gradimento dei governatori vede al dodicesimo posto Toma, sui primi tre gradini del podio ci sono altrettanti presidenti leghisti, ovvero Zaia, Fedriga e Fontana. Sentiamo i dettagli. Dodicesimo posto per Donato Toma nella classifica sul gradimento dei governatori di regione messa a punto dall'Istituto di Sondaggi di Antonio Noto. La ricerca è stata pubblicata dal Sole 24 Ore e vede sul podio il trittico dei presidenti leghisti, Zaia del Veneto, Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Fontana della Lombardia. Toma un anno dalla sua elezione ha perso il 6,2% dei consensi scendendo dal 43,4% al 37,2% e precede il governatore della campagna De Luca mentre subito prima di lui c'è Mario Oliverio, presidente della Calabria recentemente coinvolto in un'inchiesta su presunte irregolarità sulla gestione di appalti e a cui proprio in queste ore è stato revocato l'obbligo di dimora. Zaia, che non è nuovo al primato in questa graduatoria, è al 62% ha avuto un incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni Fedriga è al 51,1% e Lombardo Fontana al 49,2%. Ai piedi del podio altri due esponenti di centrodestra neo eletti nel corso dell'ultimo mese Marsilio, 48% presidente dell'Abruzzo e Solinas, 47,8% della Sardegna. Il primo presidente di centro-sinistra è Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna con il 44,2% anche se diminuiscono i suoi consensi del 4,8%, segue Enrico Rossi della Toscana che è al 42,6% con un decremento del 5,4%. Il presidente della Liguria Toti è ottavo in classifica con il 39,2% seguito da Zingaretti che conquista il 38,8%. Il sondaggio è stato effettuato su 16 regioni durante il mese di marzo 2019 quindi escludendo Trentino e Valle d'Aosta, Basilicata e Piemonte che è chiamata alle urne il prossimo 26 maggio. Il governance poll del 2019 ha commentato il direttore Antonio Noto autore di questa ricerca, rispecchia anche quelle che sono le tendenze a livello nazionale in vista delle elezioni europee. Infatti il dato politico è che per la prima volta i cinque presidenti in cima alla classifica sono tutti appartenenti a un'unica coalizione il centro-destra. È da notare e conclude Noto che al momento nessuno dei presidenti in carica appartiene al Movimento 5 Stelle. Andiamo in tribunale a Campobasso, questa mattina si è celebrata l'udienza preliminare sul caso del blitz lungomare. Si sarebbe dovuto decidere sull'eventuale rinvio a giudizio così come richiesto dal procuratore Nicola D'Angelo che è un'istanza a carico di ben 36 soggetti. Tanti sono coloro che risultano indagati nell'ambito di questa operazione. Una imponente inchiesta antidroga che, lo ricorderete, si chiuse ad ottobre e che è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo e reparto operativo del comando provinciale di Campobasso, le persone presenti in aula con i loro difensori sono tutte imputate di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze. Dopo un primo slittamento dell'udienza, dalle 9.30 a mezzogiorno, si è entrati nel vivo della discussione, gli avvocati hanno sollevato una serie di eccezioni che sono state accolte dal GUP e quindi c'è stato il rinvio. La prossima udienza ci sarà a fine mese, il 30 di aprile. In quel caso potrebbe arrivare il rinvio a giudizio. E sempre per la cronaca una bomba viaggiante. Così la Guardia di Finanza di Isernia ha definito la punto a GPL che è stata sequestrata e che trasportava 200 litri di alcol di contrabbando. In caso di collisione, l'esplosione avrebbe potuto provocare una strage denunciato un sessantenne beneventano residente in provincia di Chieti. Sentiamo Nicola De Santis. A Sesto Campano, la Guardia di Finanza di Isernia ha sequestrato 200 litri di alcol puro a bordo di una Fiat Punto alimentata GPL. Alla guida dell'utilitaria, un sessantenne originario della provincia di Benevento è residente nel Chietino, con diversi precedenti penali per stupefacenti e furto. L'alcol era contenuto in 10 tanniche di plastica, prive del contrassegno di Stato. posizionate all'interno dell'abitacolo, sui sedili posteriori e nel bagagliaio. Il liquido trasportato in un'autovettura alimentata a gas ha reso l'auto una potenziale bomba viaggiante. Un'eventuale collisione con altri veicoli, un'anomalia dell'impianto elettrico, avrebbe potuto provocare una strage. Il sessantenne non ha voluto riferire ai militari alcun dettaglio in merito alla provenienza, alla quantità e alla composizione del prodotto trasportato, esibendo peraltro documentazione amministrativa irregolare. È stato denunciato per il reato di contrabbando, mentre il liquido trasportato è stato sequestrato. Sottoposta a sequestro anche la vettura, dotata inoltre di targa prova, risultate intestate ad una società che aveva cessato l'attività commerciale nel 2014. Non è l'unica operazione condotta dalla finanza sul territorio nelle ultime ore. Infatti le fiamme gialle hanno sequestrato complessivamente circa 120 grammi di sostanze stupefacenti e sono stati segnalati in prefettura 28 soggetti. In un esercizio commerciale della provincia è stata appurata la presenza di circa 900 articoli, tra buste regalo, articoli da pesca e calzature, in violazione della normativa in materia di tutela del Made in Italy e sicurezza dei prodotti. I beni sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e la titolare è stata segnalata alla Camera di Commercio. Inoltre, lungo la statale 85 è stato fermato un soggetto di origine cinese titolare di un'attività commerciale nel Chietino che trasportava un centinaio di capi di abbigliamento con falsa indicazione di origine del Made in Italy, oltre a 200 paia di occhiali con marchio CE difforme e contraffatto. Sempre a sesso campano è stato fermato un soggetto originario della provincia dell'Aquila titolare di un'attività di ottica a Pescara alla guida di un automezzo al cui interno sono stati rinvenuti e sequestrati 200 astucci per occhiali di note marche e risultati contraffatti e destinati alla vendita all'interno del proprio esercizio commerciale. Il soggetto è stato denunciato a piede libero. L'interattività ha richiesto l'impiego di oltre 50 militari che durante il servizio hanno sottoposto a controllo circa 180 automezzi e 320 persone. Le attività condotte dalle Fiamme Gialle in coordinamento con le altre forze dell'ordine hanno dichiarato i vertici del comando provinciale di Iserni e hanno permesso di garantire maggiore sicurezza sul territorio rispondendo alle esigenze emerse nei vari tavoli istituzionali per l'ordine e la sicurezza pubblica. Molise è protagonista al Vinitaly 2019, la più importante rassegna dedicata al vino che si concluderà mercoledì 10 aprile a Verona. Sono 14 le aziende vitivinicole in vetrina nello stand finanziato dal PSR Molise 2014-2020 attraverso la misura 3.2 ovvero quella di sostegno alle attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori del mercato interno. Il Molise ha necessità di proporsi e farsi conoscere a livello internazionale in ogni contesto. Questo è il commento dalla regione. Il Vinitaly rappresenta una vetrina d'eccezione, una preziosa opportunità per le cantine molisane ormai in grado di competere con importanti realtà imprenditoriali del settore. La volontà del nuovo governo regionale è proprio quella di rendere riconoscibile il Molise attraverso attività che puntino alla valorizzazione del contesto territoriale, allo sviluppo del turismo rurale, alla promozione delle eccellenze no gastronomiche. Fino a domani lo stand del Molise ospiterà delegazioni provenienti da Stati Uniti Asia, particolarmente interessate al mercato vitivinicolo in ascesa. I tecnici dell'ARSAP Molise, l'agenzia regionale di sviluppo agricolo rurale della pesca, e i sommelè dell'associazione Il Gusto dei Sensi racconteranno attraverso incontri e degustazioni la realtà vitivinicola regionale, il legame col territorio, le tradizioni, le produzioni di nicchia con un focus sulla tintilia. Soddisfatto l'assessore Cavaliere che avete visto in queste immagini, è un piacere, ha detto i miei complimenti vanno a tutte le nostre cantine presenti a Verona. La regione continuerà a dare il proprio sostegno perché eccellenza e qualità rappresentano il nostro punto di forza. Ed ora andiamo ad Isernia dove dopo quattro mesi di lavori e un finanziamento di 140.000 euro è stato consegnato l'ex centroanziani di Via Umbria alla scuola Giovanni XXIII, oggi una grande festa in città. Vediamo. Per la Giovanni XXIII è stata una giornata di festa. Dopo quattro mesi di lavoro e circa 140.000 euro di impegno economico, l'ex centroanziani di Via Umbria è stato restituito, restaurato alla collettività. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato tutta la scuola con il preside Bruno Caccioppoli che nel suo discorso ha voluto ringraziare quanti si sono adoperati per la riapertura della scuola. Allora sì, siamo contenti, siamo contenti perché questa è una mia esperienza personale. Io sono arrivato qui e dopo pochissimi giorni dalla mia presa in servizio mi hanno chiuso questa scuola e sono stato all'interno di tutta una serie di polemiche, di scontri, di conflitti. Oggi ne usciamo, finalmente ne usciamo bene perché la scuola è stata ristrutturata, devo riconoscere che è stato fatto uno sforzo importante, sono stati cambiati tutti gli infissi, sono stati fatti dei bagni nuovi, i bagni per i docenti, è stata data una bella ritinteggiata. E' vero che è rimasta ancora qualche cosina da fare, ma questo si potrà magari fare in estate. Per cui siamo contenti, siamo contenti di tornare qui perché questo è un posto storico e tradizionale della nostra scuola. Non sono mancate le polemiche da parte di alcuni genitori che si sono autotassati per sanificare i locali e permettere così alle sette classi rientranti da San Lazzaro di poter seguire le lezioni in un ambiente pulito e confortevole. Vorrei ringraziare anche l'amministrazione comunale per non aver voluto, trincerandosi dietro a valutazioni squisitamente giuridiche, non aver voluto collaborare ai fini di ottenere la sanificazione degli ambienti. Devo ringraziare a tal riguardo tutti i genitori che si sono impegnati nella raccolta dell'autofinanziamento, tutti i personale ate, in particolare il signor Roccoprato, che hanno dato l'anima perché la festa di oggi avvenga. Quindi concludo dicendo, finalmente, in una terra dove la sudditanza domina, i genitori, i cittadini sono riusciti a strappare un risultato da un'amministrazione che purtroppo ultimamente si è dedicata ad altro. Il sindaco, evidentemente irritato per le polemiche, ha spiegato che i locali erano già stati sanificati dal comune e che le polemiche, in un giorno di festa, appaiono strumentali e fuori luogo. Vabbè, qui anche nei momenti di gioia e di festa bisogna fare polemiche, polemiche assolutamente serili e inutili. Io ho ringraziato per la pazienza, per i sacrifici che hanno fatto in primis i ragazzi, i genitori, le famiglie e i docenti. Perché chiaramente stringersi in ambienti non perfettamente adeguati, chiaramente implica dei sacrifici. Quindi per alcuni mesi che questi sono stati fatti, siamo i primi a riconoscerli, ma gli obiettivi si raggiungono insieme, con la comprensione e con l'impegno di tutti. Se noi siamo arrivati a questo risultato, cioè a realizzare una scuola completamente ristrutturata, sanificata sotto il profilo igienico-sanitario, sotto il profilo anche degli adeguamenti dei locali, degli spazi, della luminosità, stando alle prescrizioni che ci ha fatto l'ASREM, è un obiettivo che abbiamo raggiunto con fondi comunali, con l'impegno dell'ufficio tecnico e dell'impresa che ha lavorato veramente molto bene. Restano ancora alcuni lavori da espletare. La sistemazione degli spazi verdi, alcuni infissi da sostituire, la tinteggiatura delle pareti esterne. Da Pollonio ha promesso che l'amministrazione provvederà all'ultimazione delle opere nel più breve tempo possibile, compatibilmente con lo svolgimento nelle aule dell'attività didattica. C'è qualcosa da fare, ma quelle sono cose aggiuntive, che non erano state in un primo tempo previsto per poter restituire la scuola. Poi se si vogliono fare le polemiche, siamo sempre allo stesso punto, cioè si fa polemica sterile e non si costruisce, si dà anche un'immagine sbagliata ai ragazzi. E ora parliamo di videosorveglianza e sicurezza. Da oggi sono attive a Campobasso ben 120 telecamere. Al Sessore Francesco De Bernardo, allora ci siamo. È stata inaugurata la centrale operativa al corpo della Polizia Municipale di Campobasso con 120 telecamere attive H24, 7 giorni su 7. Sì, abbiamo le telecamere presenti su tutto quanto il territorio comunale in base a quel piano realizzato in Prefettura dalle Forze dell'Ordine che noi abbiamo puntualmente eseguito. Su 140 previste, a 20 devono essere ancora installate, ma per risolvere alcuni problemi di natura tecnica, forse anche un po' amministrativa. Ma niente altro, niente di più. E non ce la sentiamo di tenere fermo un sistema così importante. Per 20 telecamere non era il caso, perché è importantissimo. Noi quotidianamente riceviamo richieste di estrapolazione dei dati. Anche le forze dell'Ordine continuano ad insistere giustamente, ma giustamente e legittimamente, per avere dati. Adesso siamo in condizione di dare questi dati che per 7 giorni saranno conservati in base al regolamento comunale sulla videosorveglianza. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è la sicurezza, nessun altro. L'obiettivo è la sicurezza perché noi riteniamo, ma così come il progetto nazionale che ha mosso questo finanziamento di un milione e sei sulla regione Molise, era esattamente proprio quello, quello di dare maggiore sicurezza. Perché lavorare e operare all'interno di una località, in un luogo dove si sa che c'è una videosorveglianza, e quindi tutto quanto quello che non tanto facciamo noi, ma che fanno gli altri, è controllato e evidentemente dà maggiore sicurezza. Quali le zone sorvegliate? Centro storico e via d'accesso? Tutta la città. Praticamente le vie d'accesso della città, tutte le contrade, tutti i quartieri, il centro della città, il palazzo di città, tutta la città. Perché il piano ha tenuto conto, erano 180 all'inizio, poi c'è stata una riduzione di 40, siamo arrivati a 140, di queste 140, 120 sono operativi. Abbiamo, non abbiamo perso tempo, abbiamo utilizzato bene il tempo che ci è stato a disposizione, perché con l'azienda che ha realizzato tutto quanto l'impianto, abbiamo dovuto trovare una serie di soluzioni tecniche che erano finalizzate solo ed esclusivamente alla qualità del prodotto. È chiaro che con questo tipo di sistema, se dovessimo avere in futuro altro tipo di telecamere in un cerchio più ampio, ed è un progetto che non abbiamo messo in campo, dovessimo far viaggiare tutto quanto questo in fibra, allora avremo, oltre che la sicurezza, avremo anche la qualità dell'immagine. C'è stata una commovente cerimonia oggi in tribunale a Campobasso, l'intitolazione della scuola forense all'avvocato recentemente scomparso, Erminio Roberto. Vediamo. La scuola forense del Molise porterà il nome del compianto Erminio Roberto, avvocato del foro di Campobasso, venuto a mancare circa un mese fa a causa di un malore improvviso. Questa mattina la cerimonia in tribunale, in un'aula affollata di amici, colleghi, conoscenti. Intitolare la scuola forense all'avvocato Roberto è un'idea che ha trovato tutti d'accordo nell'ordine, perché Erminio, ha detto questa mattina, più di qualcuno aveva ancora tanto da imparare. Ricordiamo l'amico, soprattutto, e poi il professionista. Un amico che ci ha lasciato così, improvvisamente e prematuramente. Un amico di tutti i giorni, che era qui e con il quale si scherzava prima dell'udienza, ma poi quando si entrava in udienza e si indossava la toga, si entrava nel ruolo. Un amico, oltretutto, che mi ha accompagnato per molti anni nel Consiglio dell'Ordine e che mi ha dato sempre un grande supporto, sia come professionista che come uomo. Oggi gli dichiamo la scuola forense, che è il futuro. Erminio Roberto, professionista indiscusso, animo integerrimo, era solito confrontarsi con i suoi colleghi in cause che li vedevano fianco a fianco e con loro era consuetudine indossare anche le vesti del giudice per valutare da un altro aspetto la sua eventuale tesi, l'efficacia e l'efficienza della stessa. Ma non era soltanto quella toga che tanto amava e per la quale sacrificava molto del suo tempo. Erminio Roberto era anche e soprattutto sua moglie e le sue figlie che questa mattina in aula erano visibilmente commosse rispetto al ricordo del loro amato papà e marito. Un segnale per tutti i giovani che iniziano la professione, che scelgono la professione. Erminio aveva scelta la professione, amava questa professione, amava a tal punto che quando entrava in aula si caricava. Qualche giorno fa, la settimana scorsa, il presidente del tribunale l'ha ricordato pubblicamente, definendolo anche ironico. Soprattutto un uomo che aveva il sorriso, che era un sorriso lineare, che era un sorriso aperto, che però quando sosteneva le sue tesi, le sosteneva con professionalità, rispettando la toga e interpretando la professione come dovrebbero, come devono fare tutti i giovani che oggi entrano nel nostro mondo, un mondo fatto pieno di sacrifici, in cui si sacrifica anche la famiglia. Lui non ha sacrificato la famiglia, amava la sua famiglia, le sue figlie, la sua moglie e amava questo lavoro che tutti noi abbiamo scelto. Era quindi l'amico capace di consigli e suggerimenti mai inopportuni ed era anche il tifoso del Napoli con il quale riusciva piacevolmente a distrarsi da codici e normative. L'avvocato Erminio Roberto era chi non può essere dimenticato senza ricordarne le molteplici sfumature che ne hanno fatto grande l'uomo e il professionista. È il momento del meteo, vediamo che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo di martedì 9 aprile. Le regioni del Basso Adriatico permangono esposte ad un flusso di correnti settentrionali legati all'isolamento di una circolazione depressionaria sui Balcani. Ne scaturiscono condizioni di residua e stabilità atmosferica con nuvolosità a carattere irregolare alternata a sprazzi soleggiati, temperature senza sostanziali variazioni, venti moderati di maestrale, mare mosso. Ecco le temperature. Campobasso minima 7, massima 15 gradi. Isernia 8,16, Termoli 8,18, Venafro 9,18. Ed ora un piccolissimo break, restate con noi perché tra poco c'è l'ampia pagina sportiva. Eccoci tornati insieme per parlare di calcio di serie D. Subito vediamo i risultati di questa 34esima di campionato. Ne mancano 4 alla fine. 1-0 per l'Avezzano sull'Isernia, 1-0 anche per il Pineto a Castelfidardo, Cesena-Montegiorgio 1-1, Francavilla-Recanatese 3-3, Giulia Nova-Vastese 1-2, Matelica-Iesina 3-3, Agnonese-Campobasso 1-1, San Maurese-Savignanese 1-2, San Nicolo-Forlì 0-2, infine la San Giustese che vince sul Sant'Arcangelo per 2-1. E allora, come detto, quando mancano 4 partite alla fine vediamo un po' qual è la situazione in classifica. In testa c'è sempre il Cesena che ha più 2 sull'inseguitrice Matelica-Recanatese. Pineto e San Giustese compongono insieme al Matelica la griglia playoff. Andiamo nelle zone basse della graduatoria, vedete che la situazione per le Molisane, Isernia e Agnonese non è semplice, perché l'Isernia è a 33 punti esattamente con Sant'Arcangelo, Forlì e Avezzano, tutte e quattro sono attualmente nei play-out, mentre oggi l'Olimpia Agnonese è penultima in classifica, è il posto che vuol dire retrocessione diretta, e domenica prossima c'è lo scontro diretto Isernia-Agnone all'Ancellotta, insomma è una situazione davvero complicata per la permanenza in Serie D, per entrambe le formazioni molisane. Andiamo a vedere com'è andato il derby agnonese-campobasso, uno a uno con tante recriminazioni e amarezza soprattutto dalla parte granata. Per il Campobasso un punto che fa morale, per l'Agnonese due punti in meno che potrebbero pesare come un macigno sulla corsa salvezza. Nervi tesi a fine partita tra tifoserie e dirigenze, l'esordio bis di Antonio Mecomonaco sulla panchina granata non è particolarmente fortunato. Agnonese senza l'iterio e albanese dietro, mentre Massimo Bagatti conferma Musetti centravanti e lascia inizialmente in panchina cogliati. C'è il pubblico delle grandi occasioni, al Civitelle circa mille spettatori, di cui 250 provenienti dal capoluogo di Regione, arbitra Taricone della sezione di Perugia. Grande intensità sin dalle prime battute di gioco, qui Formuso va via sul filo del fuorigioco, ma sul più bello viene disturbato dal rientro dei difensori rosso-blu. Ancora il centravanti di casa, dialoga con Ribeiro, si defila e costringe Esposito alla parata in angolo. Il Campobasso risponde con questa punizione di Danucci, palla in verticale, Magri è pericolosissimo, ma in posizione irregolare, si alza la bandierina dell'assistente. Alla mezz'ora l'ex Ribeiro si vede sulla destra, attraversone per di Arrache, con coraggio, calcia di prima intenzione, palla fuori. Ma il Campobasso non demorde, è messo bene in campo e in avanti, agente che fa la differenza. Alessandro danza sul pallone, poi mette a lato quando sembra fatta. Lupi pericolosi in attacco e determinati dietro, Alcivitella è partita vera, si va negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa i due 11 continuano a spingere sul gas, Bisceglia fa un numero sulla linea di fondo, vede serve di Arrache, che stavolta liscia clamorosamente. Bagatti decide di cambiare, dentro Cogliati per Giacobbe, ma il più pericoloso continua ad essere Musetti, qui prende la mira e indirizza all'angolino ma Raolo intuisce e salva il risultato. Al ventesimo della ripresa la gara si sblocca, pulizione di Ricciardi, la difesa rosso-blu non pulisce bene l'area, Bisceglia è il più lesto di tutti, stop e sassata che non lascia scampo a sposito, i lupi protestano, ma il centrale viene tenuto in gioco da Antonelli. Gol che merita di essere di visto, comprensibile la gioia del difensore. Entrano nel campo basso Islamai e Ranelli per Antonelli e Di Lauri, nell'agnonese Mazzarani per l'esausto Formuso. Magri continua ad essere pericoloso, anche se difetta nella mira da due passi, mentre dall'altra parte va meglio a Diarrà, che di testa questa volta è pericoloso, Sposito deve impegnarsi. Quasi allo scadere la beffa per i padroni di casa, che ci incischiano su questo lancio lungo di Danucci, il più lesto di tutti e Musetti, che si comporta davvero Bomber, uno a uno e agnonese all'inferno. In confusione i Granata rischiano il K.O. poco dopo, ma a tenerli a galla è Maraolo strepitoso sulla punizione del capitano dei lupi. C'è ancora il tempo per assistere all'espulsione di Bagatti e ad un immediato post-gara ad alta tensione. Il campo basso non regala nulla e c'entra il secondo pari consecutivo, l'agnonese vede il baratro e domenica c'è un altro derby. L'Iserni ha giocato una buona gara, ma è stata punita dall'episodio, è arrivato nei primi minuti il gol dell'Avezzano, i biancocelesti faticano negli scontri diretti. Vediamo come è andata. Una rete messa a segno dopo soli sette minuti consente all'Avezzano di portare a casa tre punti di fondamentale importanza per il futuro. Quella contro i molisani da più parti era stata dichiettata come partita da ultima spiaggia, soprattutto dopo le recenti delusioni casalinghe che avevano visto i marsicani regalare punti a piene mani ad ogni avversario. Stavolta è andata diversamente e seppure con una sofferenza finale della quale i tifosi avrebbero fatto volentieri a meno, il successo non fa una grinza. Considerate anche le occasioni che gli ospiti hanno concesso nella fase conclusiva del match, quando Petitti e compagni si sono riversati in massa nella metà campo locale alla ricerca del pari. Colavitto conferma la formazione delle ultime uscite, quella che al momento sembra offrire le maggiori garanzie e al settimo l'Avezzano passa in vantaggio. C'è un lancio di Di Nicola dalle retrovie a metà fra Padovani e Bruni. Il numero 11 non riesce a controllare il dovere, ma i difensori Sernini si scontrano tra di loro permettendo a Bruni di caricare il destro e fulminare del giudice di controbalzo. Rete preziosa come l'oro per i padroni di casa, rete che alla fine varrà per intero i tre punti. Si ricomincia e dopo due minuti l'avanzato Le Noci va alla conclusione obbligando Fanti ad alzare sopra la traversa. Ventiquattresimo angolo per l'Avezzano e occasione per Ferrante che all'altezza del secondo palo non riesce ad indirizzare nello specchio per il contrasto di Mbunga. Al 29esimo i Biancoverdi, oggi in maglia rossa, guadagnano un calcio di punizione. Grazioso indirizza in aria un pallone teso per Padovani che va di testa ma senza inquadrare lo specchio della porta. E per chiudere il primo tempo vi mostriamo questo destro di Maresca dal limite che Fanti alza ancora sopra la trasversale. E passiamo adesso alla ripresa. Sei minuti e c'è questo cross di Besana dal fondo per Bruni che viene preceduto in angolo dall'intervento di un difensore. Tredicesimo contropiede dei Marsicani che vanno al tiro ancora con Bruni ma anche stavolta con scarso successo perché il premio è rappresentato solo da un inutile corner. Poi si scuote Lisernia che su una veloce ripartenza si rende pericolosa ma Fanti è vigile, ben piazzato e con un tuffo laterale mette sul fondo. L'Avezzano si ritrae un po' troppo e i molisani cercano di approfittarne e al ventesimo un sinistro del nuovo entrato romano dall'interno dell'area obbliga Fanti a gettarsi a terra per la opportuna deviazione. Altri tre minuti e De Roccis scatta in contropiede fuga verticale servizio al bacio per Grazioso che solo davanti a Del Giudice spara in curva il pallone del possibile raddoppio. Un'azione da una parte una dall'altra e stavolta tocca ai Bianco Celesti il cross è di Schena che si è liberato a destra ma Fanti risponde presente anche in questa occasione. L'Isernia adesso si riversa in massa nella metà campo dei padroni di casa concedendo spazi per i contropiedi avversari come quello che in pieno recupero consente a Fulvi di calciare da buona posizione ma la porta è un po' più in qua. A chiudere definitivamente i conti potrebbe essere Bruni che al cinquantesimo si presenta da solo davanti al quasi rassegnato del Giudice. Sugli spalti sono tutti pronti a gridare al gol ma l'attaccante spara diritto addosso al portiere accentuando la sofferenza dei suoi tifosi nei pochissimi minuti che mancano al termine. In conclusione per l'Avezzano tre punti che consentono di sperare ancora nella salvezza. Per l'Isernia un passo indietro ma con le stesse possibilità di tutte le altre. Parliamo adesso di calcio a cinque è l'Arzignano il re di Coppa Italia di Serie C avendo avuto la meglio in finale sullo Sporting Venafro per 5 a 0 c'era Bagnoli squalificato e il quintetto di Pado ha dovuto anche fare a meno di Iacovino che è stato espulso nella prima frazione comunque chiusa sull'1 a 0 nella ripresa l'Arzignano ha ampliato il divario complice anche la parentesi col portiere in movimento che era stata tentata dai venafrani per insomma riportarsi sotto in ogni caso il Venafro aveva già esultato perché è arrivato il traguardo della Serie B a un anno dalla creazione di questa società già un grandissimo risultato l'anno prossimo ci sarà il campionato di Serie B e queste sono le immagini poi della premiazione della conclusione della Coppa Italia con la cerimonia al palazzetto dello Sport di Isernia con il presidente di Cristinzi e il capitano dell'Arzignano che alza la Coppa parliamo adesso di pallacanestro femminile di Serie A secondo successo consecutivo e primato in classifica in solitaria mantenuto la Magnolia a campo basso va a violare il parchè del Cuscagliere e lo fa con una prova che vede le rosso-blui salire da un avvio complicato intorno a Capitano di Gregorio top scorer del match a quota 23 punti le conclusioni dell'esterna Tarantina e il fosforo di Marangoni consentono quindi al rosso-blui di prendersi un referto rosa di tutto rilievo e di lanciarsi al meglio verso le ultime quattro gare della regular season e a questo punto possiamo anche vedere la grafica con tutti i risultati della Serie A2 di pallacanestro femminile quindi dalla regia possiamo eccola qui la vediamo il 29esima giornata i risultati sono questi Civitanova Marche Palermo 74 a 68 Cagliari Magnolia l'abbiamo detto 49 a 63 Faenza Pistoia 85 a 69 La Spezia San Giovanni Valdarno 69 a 62 Orvieto Atena Roma 30 a 76 Savona Forlì 76 a 49 Selarjus Elite Roma 72 a 47 Umberti De Bologna 67 a 64 In classifica appunto le Campobassane sono in testa con 44 punti segue a meno 2 La Spezia a 40 ci sono Palermo e Bologna 38 Faenza e poi via via tutte le altre chiudono Orvieto e Forlì con 8 punti Ed ora il giudo arriva da Teplice un successo all'insegna di una prova strepitosa per l'atleta Isernino della Champions Sport Team Luigi Centracchio che in questa foto vediamo con il papà maestro Bernardo in Repubblica Ceca l'atleta Pentro ha vinto tutti e sei i combattimenti disputati per Ipon il K.O. del Judo unica gara più tirata è stata la semifinale contro un atleta di casa nella finalissima Centracchio ha avuto la meglio su un sudafricano quindi complimenti a Luigi e a Bernardo Centracchio per questo grande successo che è arrivato poche settimane dopo quello della sorella Maria torniamo anzi sul calcio a 11 vediamo i risultati dell'eccellenza si è giocata la 27esima di campionato Boiano Venafro 2 a 0 Termoli Agli Campobasso e Campodipietra 3 a 2 Frentania FV Pimatese Pietra Montecorvino Alife 5 a 0 Guglionesi Vasto Girardi 1 a 2 Rocca Sicura Riccia 5 a 0 Sesto Campano Roseto 0 a 1 ed infine 4 a 1 del Treppini sul Gambatesa in classifica sappiamo già che il Vasto Girardi che è in testa ha già vinto il campionato è già in serie di ormai da un paio di settimane 55 c'è il Roseto 54 Boiano 49 Sesto Campano 48 Venafro poi c'è Rocca Sicura 47 e via via le altre chiude la Alife che è già retrocesso in promozione e a proposito di promozione anche qui si è giocata la 27esima stagionale Ururi Capriatese 1 a 2 Castelli Sangro Donche Isagnone 2 a 1 Cliternina Santeliana 0 a 5 Vairano Campobasso 3 a 0 Polisportiva Fortore Biccari 1 a 0 4 Torri Chieuti Spinete 3 a 2 Riparimosani Termoli 3 a 2 Trivento Baranello 3 a 1 in classifica in testa c'è il Vairano con 69 punti a 64 La Capriatese 57 Baranello 44 Biccari 42 Agnone Castel di Sangro 40 Riparimosani 38 Trivento Campobasso 34 e poi via via tutte le altre chiude la Cliternina con 13 punti è tutto anche per questa edizione del TG che ricordo potete rivedere tramite il nostro sito internet oppure la pagina Facebook potete anche condividere scaricare e commentare i nostri servizi grazie per essere stati con noi arrivederci